Dopo gli incontri già avuti a Roma, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris oggi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il viceministro alle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini per proseguire i lavori del tavolo tecnico sull'edilizia residenziale pubblica. Oltre all'esplicito apprezzamento per il lavoro che si sta effettuando a Napoli in questi ultimi anni, il viceministro ha ricordato che la regione Campania ha già ricevuto 50 milioni di euro, risorse che devono essere destinate anche alla città di Napoli e che ci sono altri 700 milioni destinati all'edilizia residenziale pubblica in ambito nazionale attualmente in fase di valutazione nelle riunioni preparatorie del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Da quello che ho visto, ma ci stiamo lavorando già dal mese di luglio dello scorso anno, la situazione trovata precedentemente è passata alla nuova amministrazione, definiamola perfettibile. Vedo che il lavoro in corso è molto grosso, il tentativo di portare in trasparenza, accelerando il livello della trasparenza e dell'esficienza è alto, noi guardiamo con attenzione, vorrei dire anche però con piacere il lavoro che viene svolto, perché vedo comunque buoni risultati in arrivo. Molti temi abbiamo messo in cottura con il Sindaco e con la Giunta di Napoli, pensiamo ai beni requisiti alla criminalità da utilizzare nel cuore della città, a finanziamenti che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la bontà del disegno di vendita a chi risiede all'interno di un alloggio popolare e quindi la possibilità di diventare proprietario di un piccolo bene, la possibilità di manutenere beni che non sono ad oggi abitabili in rapporto con la Regione Campania che ha già avuto circa 50 milioni dallo Stato, una buona collaborazione anche per riportare in trasparenza un patrimonio, quello edilizio napoletano, tra i più importanti a livello nazionale.